Con la pandemia abbiamo scoperto i viaggi di prossimità, abbiamo riscoperto quante bellezze abbiamo nei nostri territori, vicino casa. Inoltre è stata riscoperta anche la bellezza della natura, la libertà che riesce a dare lo stare all'aria aperta, magari in contesti naturalistici davvero unici, come quelli che abbiamo nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, che ancora una volta ottiene un primato di grande valore. Il portale TripAdvisor ha inserito per la prima volta i parchi tra le classifiche dei Traveler Choice, i premi assegnati dai viaggiatori, le destinazioni preferite in assoluto dell'anno che vengono individuate dal portale in base al numero e alla tipologia di recensioni. Tra i dieci parchi premiati in Europa nella Top Ten compare il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, un connubio unico tra montagna e mare. Orgoglioso di questo prestigioso riconoscimento, Tommaso Pellegrino, presidente dell'ente Parco. Un premio importante, rimarca, per la natura incontaminata, per il mare cristallino, per le scogliere belle come cattedrali. Un premio per la nostra terra, scrive Pellegrino, che è il racconto fedele dei nostri centenari, della sua storia, la sua cultura, la sua arte. Un premio per il cibo, per gli odori e per i colori della dieta mediterranea. Un premio per i paesaggi che trasmettono emozioni uniche. E per questo sottolinea Pellegrino che visitare il nostro parco è un'esperienza straordinaria ed irripetibile.